Benvenuti ragazzi, sono Renzo e benvenuti a questo nuovissimo video della Crayon Skies 2, questo qua è il video numero 6 E oggi ragazzi, non ho letto i vostri consigli in descrizione, ma nei commenti perché le sto facendo tutti di fila Se sapete come darmi qualche consiglio ragazzi per l'autogener, la stone miner, la come si chiama, andate anche sotto a questo video O magari andate a vedere il video precedente così sapete di cosa sto parlando Inoltre ragazzi, ho fatto una ventina di pezzi di stone, di cobblestone, adesso la sto, me la sto sievando Cioè la sto sinacciando per prendere da questa stone i nostri materiali che ci serviranno per andare un po' avanti Sto trovando la patite, utile Abbiamo il ferro, così abbiamo fatto anche da questo, che ci chiedeva che bisognava 4 pezzi di ferro e ne ho trovato i 6 Quindi è buono E guarda che qua dentro dovrà averci anche la dust E dopo si fa pure la dust Allora praticamente ragazzi, la gravel dà dei materiali in Diciamo, cioè i materiali più comuni con percentuali più alti di drop Solo che per farli diventare un lingotto vero e proprio bisogna fare tanti passaggi Invece con la sabbia bisogna fare la metà di passaggi che si fa con la gravel E invece con la dust basta mettere dentro la crafting table Fare un 2x2 E ci abbiamo il materiale già bello che ho fatto Come vedete ragazzi qua ci dà il broken E con la dust, non mi ricordo come si chiama Poi già dei materiali già ci dà belli che ho fatti Ok, andiamo a vedere da questo, questo ci chiedeva Ecco ragazzi facciamo successivamente Questo, ok Dovete craftare un iron and gravel Ok, di ferro ce n'ho anche abbastanza Quindi, buono Vediamo un po' che ci chiedeva fa Ok, fa diventare in crash Qua ragazzi avete tutti i passaggi che dobbiamo fare Una volta fatto così Diventa Da questi fregnettini un po' più Diciamo, più puri diciamo Poi non so puri però vabbè E una volta fatto questo qui Roppiamo anche questo qua sempre quell'hammer E ci dà Come avevo detto prima Che c'è la roba che ci dovrebbe uscire anche dalla dust E ci siamo fatti da Da tre No, da nove pezzi di Powered No, di broken iron Abbiamo fatto tre lingotti di ferro E quindi è una cosa molto buona Abbiamo fatto tutto Ok E c'è d'altra C'è d'alti quattro E adesso abbiamo sette lingotti di ferro Quindi ragazzi possono anche essere pulverizzati Vedete se abbiamo pulverizzati Adesso noi non ce l'abbiamo Però quando andremo più avanti Quelli la li pulverizziamo Facciamo diventare molti di più Quindi per avere ancora più materiali Ok, facciamo una chest Un po' piccolina Comunque rica qua La cosa fa un po' più stretta Io metterei tutti i materiali insieme Così se li troviamo sempre Allora l'alluminio non mi interessa Questo sì Questo sì Questo qua Va bene là Poi 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 Che basta No, questo Questo Vabbè la partita della manella E ci abbiamo i nostri lingottozzi di ferro Ok Adesso ragazzi ho scoperto Che questo qui Lo stone chopper Praticamente È come una harvester Della mine factory Quindi praticamente Quando vede che c'è l'albero Completo C'è l'albero cresciuto Lo taglia Però Vedendo anche un tutorial Cioè Stavo vedendo un video Della revolve 20 Ho visto che non funzionava Così tanto bene Quindi poi magari Tipo lo craftiamo Però non lo usiamo E continuiamo a farla Armano Qui ragazzi ci chiede a fare Una fishing road E un euro fish Io potrei anche provare A farla Fishing road Anche se so Che visto che Non c'ho un laghetto Vero e proprio Non credo che I pesci Cioè Riescano a pescare Però Tentiamo Anche che poi Non vedo neanche le particelle What? Che cos'era Quella particella Che tipo No Sottacolare Però Non è il pesce Che mi serve a me Se avrebbe un pesce normale Vedete Raga Tipo raga Che qua al lato Tipo sono tutte le particelle D'acqua Qua intorno E ora Potrebbe fare come prima L'effetto figo E vedrò il pesce Cioè Poi è fatto abbastanza male Visto che non c'è l'acqua Però Boh C'alla Eccolo Perfetto Il pesce ci serviva Dai Questa Questa è fatta Prendiamo L'alluminio L'alluminio abbastanza Oh il salmone Boh Mi sono mangiato a pranzo Ok E che se questa è stata fatta Dovremmo fare Un La flower Ok Cerchiamo la La farina Ok Come si fa la farina Ok Buona Non c'ho lì Ok Sto facendo la sezione da fa Allora Non ti mangiare qualcosa Perché Un bel po' Mazzo il salmone Non cazzo Ma è cotto No ma è crudo Caffaculo Sono un genio Ma le farme le farei un dopo Questo qui Non c'ho Non c'ho il quarzo Per farlo Non so se ho cambiato il crafting Ma non credo Questo qua Vorrei provare a farlo Però non so se c'ho abbastanza No Però mi manca la redstone Il problema è pure la redstone C'ho tre pezzi Quindi Quanto da Oh Bello Sarmone E' qua Quanto è che ha a dare Non mi ricordo Questa qua da Metà E questa qua da Una intera Mazzavo Sarà un po' troppo Ok Se non altre quest Che possiamo fare Tarebbe paura 16 di cosa Non andrebbe male Un mob spawner E non è anche Quello male Perché servirebbe Un mob spawner Io vorrei fare questo qua Per chiedermi come funziona Ad action table Ne so Allora Allora Dove ce l'abbiamo Proviamo a farla Poi non so perché L'ho preso da là Visto che potevo farlo Vabbè Ok Ce l'ho sbagliato Perché Eeeh Aspetta Pro Do Ok Come si fa sto coso Con stone Ah ok Stone Mi serve Un combustibile Mette qui Deo Serve Farlo uscire Ok Una blade pack Ok Non c'ho Il legno Che cos'è questo La steam turbine Magari A falla mo Ok Sa dove è best Una crafting What the fuck Cos'è sta roba Mio dio Pool Upgrade Ok E' abbastanza complicata Cioè E' figa Perché dovrebbe Tipo fare Modi Autocrafting Sa roba qua Però Boh Tutta roba Da studiassere E' Da che fa una cosa Da che Mo Mi metto A prendere Un bel po' Di cobblestone E Dove ci sono Tanti materiali Niente Ragà Qua Lo potrei Spaccata Tutta La cobblestone Ok I nostri Due stack Di cobblestone Di Gravel Mi sbaglio Sempre Tra grave E Affiliate Cioè Boh Siamo ritardati Ogni volta E' pronto Mi schermo su TS Vaffalculo E Mi faccio Tutti I drop Che Escono da qui Ok ragazzi Dopo Abbastanza Tepo Di Vento Il giorno Tornando Passati Tornando 20 minuti Ho Fino Tutto Ragazzi E Siamo Belli Pieni Pieni Di Materiali Tutti Nuovi Nuovi Ok Perfetto Abbiamo Tre Diamanti Non M'era Manca Accorto Tipo Stavo Apprezzato A Tra Mentre Faio Sta Roba E Ragazzi Buoni Sono Buoni Stiamo Un po Dentro Sta Roba Non Mi serve Ok Mi Diciamo Che Io Potrei Andare A Fare Quest'altra Quest Questa Tutta Sta Roba Della Advanced Qualcosa Però Ragazzi Non so Come funziona Quindi Se qualcuno Di voi Conoscere Quella mod Perfore Datemi Una Mana Perché Quella Mod Non la Conosco Tutte Le Rastrello E Molto Sì Quindi Facciamolo Subito Ragazzi L'agricraft C'era Fondamentale In questa Serie Per andare Avanti Per Fai Il Cib E Tutto Quindi E Molto Importante Da Fare Ok Adore C'è Altri Stick Mi pare C'avevo Altri Planks Però Vabbè Scialla Ok Molto Easy Da Fare Il La Maggiore Parte Di Vero Fuori Dall'erbaccia Noi Con questo Qua Con il tasto Destro Leva L'erbaccia Dal Terreno Quindi Diciamo E' Più Comodo Per Noi Da C'è Però Se Non Facciamo La Crescita L'erbaccia Poi Tutte Le Altre Piante Intorno Le Contamina Le Un Cazzo Bello Perfect Così Si Che Si Va Avanti E Vi Mettere No Facciamo Tutto Qua Dentro La Roba Ok La Roba Qui Lasciamo La L'erbaccia E Cotto E Poi La Prossima Quest E Da Fare Il E Come Faccio Quello Non C'ho Più Stealing Il Sidenalizer Ci Può E Certo Certe Mod Non Conosco Quindi Poi Le Facciamo Tutte Insieme Perché Se No Non So Fa La Tinker Vabbè La Tinker Se Farà Vediamo Un Poi Che Ci Sta Ah I Barrel Che So Comodi Drum Level Water What Ok Tutte Cose Utili Che Conosco Più Meno Questo Quest Questo Qui E Fishing Fischer FI Che Chi Comodo Sessioni Tubi Della Advanced Non mi ricordo Come si Chiama Questo Ragazzi Servirà Molto Quando Faremo Un Mob Spawner Qua Sì Facciamo Tutto Questo Come dice Lui Perché E' Più Easy Facciamo Quello Enorme So Senza Facolo Piccolino Qua Oh Mio Dio La Blown Magic No Mystical Blown No L'avrebbe Siamato Blown Magic La Towncraft Qua La Towncraft Facciamo Tutte Insieme Sempre Con Il Fregno Eh Questo Qua Può Essere Comodo Per quanto Ce le da Quell'altra Quest Ce le da Quindi Easy E poi Ragazzi Hanno anche Le api Bello Le api Non le ho Mai fatte Perché Non mi sono Mai Impegnato Però Sono Abbastanza Semplici Da fare Seguendo Quello Ci Da Fa Quindi In questa Serie Ragazzi Faremo Anche Le api Attenzione Quindi Nel Ragazzi Questo Bisogno Sarà Stato Un Un Di diamanti Abbiamo Il ferro Abbiamo Tipo Saranno Beh Devo Un po' Il ferro Ci esce Fuori Inoltre Devo Aspettare Un Gappo Che Non fare Sempre Corti Ok Dai Ok Ragazzi Questa Serie Vi sta Piacendo Perché Tanto Faccio Scusa Qua E poi Chiudo Questa Serie Ragazzi Vi piace Facendo Un bel Pollicione Magari Dando Consigli Ragazzi Quelle Mod Che Io Non So Fare Perché I Vostri Consigli Sono Sempre Ben Accetti E Niente Stiamo Qui Dentro Abbiamo Fatto Altri Quattro Pezzi Di Ferro Buonissimo E Niente Questa Mi